Salve a tutti i Nikonisti Extra, è arrivato questo pacco da BPM Power, devo dire imballato male, cioè è imballato male, è imballato all'Amazon, non alla moda buona, ed ecco qua, GeForce RTX 3060, quella con 12GB di RAM, voglio vedere se effettivamente Photoshop diventa più reattivo e voglio vedere soprattutto se ci sono un po' meno problemi di buffering con Premiere, che comunque sì, non è che vada male, comunque con la mia attuale 970, però ho visto dal Task Manager che in pratica la RAM video è praticamente sempre piena con la 970, con questa qui con 12GB di RAM dovrebbe cavarsela molto meglio e soprattutto il nuovo Photoshop, le ultime versioni usano molta più RAM video e utilizzano anche un po' più di potenza video, neanche tantissima, la 970 va a piena potenza magari per una frazione di secondo e poi dopo ovviamente cala perché quando fate una variazione sulla foto, per quell'attimo deve lavorare la scheda video. E quindi voglio vedere se con questa scheda video qui riesco a velocizzare ulteriormente il mio computer, che non è che sia lento, però insomma voglio che sia ancora più fluido in tutte le operazioni quotidiane, soprattutto avere meno lag, soprattutto appunto su Premiere. Quante volte ho detto soprattutto non lo so, sono un po' stanco, ma vabbè, arrivata, domani la monto, direi che oggi non ho più voglia, è tardi.